Io le ricordo che qualsiasi informazione dovesse dire all'interno di questa stanza non uscirà mai e poi mai dalla mia bocca e non uscirà mai da questa conversazione, quindi non si preoccupi e mi dica per filo e per segno che cosa le è successo quel giorno. Ok dunque non sarà facile spiegarglielo ma ecco ero andato a casa di questo mio amico Luke, lui si chiama Luca ma tutti lo chiamiamo Luke e doveva essere una giornata come tante altre insieme ad amici, sa divertirsi, giocare insieme, abbiamo registrato dei video insieme, poi però vede dottore a volte non sai mai quanto ti puoi fidare delle persone. Non si preoccupi, non si preoccupi, ora è passato e siamo qui per aiutarti, siamo qui per aiutarti, per darti una mano, cerca di finire questa storia. Ok allora, beh ecco, la sera siamo usciti e eravamo a mangiare, poi abbiamo cominciato a camminare e eravamo in questo vicolo buio, eravamo vicino a delle giostre. Vede dottore, è stato in quel momento che me l'ha mostrato, quindi lei è stato abusato sessualmente da questo suo corpo. No, 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 non lo definirei così ecco, è stato, è stato sodomizzato da qualcuno, insomma è stata una violenza di gruppo, l'hanno, l'hanno violentata. No, 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 dottore, peggio, peggio di così peggio. Provi a sforzarsi, ancora un attimo, mi dica che cosa le è stato mostrato in quell'istante. Dottore, non mi ha mostrato. Pokémon Go. Il caso del signor Creepy è uno dei casi più assurdi a cui io abbia mai assistito in 25 anni di carriera all'interno del mondo della psicoterapia. Sembrerebbe che il paziente abbia sviluppato una dipendenza ossessiva compulsiva dal gioco Pokémon Go dopo che questi gli è stato mostrato da un suo amico. Il signor Creepy ha tagliato ogni rapporto sociale con il mondo esteriore. Dimentica di mangiare e in due settimane ha raggiunto un livello che è paragonabile a quello dei giocatori che hanno smanettato sul gioco per più di un anno. Il primo passo che ho consigliato per la terapia è stato quello di incanalare questa dipendenza in qualcosa di utile. Avendo saputo dal signor Creepy stesso dell'esistenza di un canale YouTube da lui posseduto che tratta l'argomento Pokémon, il primo passo che ho ritenuto opportuno compiere all'interno della terapia è stato quello di convincerlo a creare una nuova serie riguardante la sua nuova dipendenza, in modo tale da riallacciare i rapporti con il mondo esterno, seppur virtuale. Alla fine il vortice di Pokémon GO ha preso anche me, solo con due anni di ritardo. Ora scherzi a parte, io sono consapevolissimo che Pokémon GO è un gioco che spacca letteralmente a metà la community Pokémon. C'è una fetta di persone che hanno sinceramente apprezzato il gioco giocandoci fino allo sfinimento anche adesso, mentre c'è chi lo ha disinstallato dopo due nonosecondi dal primo scaricamento. Ed io fino a due settimane facevo parte della seconda categoria in realtà. Poi sono andato a casa di Liu che evidentemente mi ha narcotizzato e io ho giocato per due settimane a Pokémon GO senza fermarmi e qui alla vostra sinistra potete vedere il risultato di due settimane di abuso tossico del gioco. Ma banno alle ciance non perdiamo altro tempo e passiamo subito all'argomento principale di questo video. Sì, voglio portare Pokémon GO sul canale. Tranquilli però non vi ho fatto aspettare quasi due mesi di inattività più totale per poi trovarmi a lanciare Pokémon in giro per il mondo e a scartare pacchi regalo. No signori, per il gioco progetti molto ma molto più ambiziosi. Ovviamente sia chiaro, non nego la possibilità che io possa caricare dei video su Pokémon GO fra virgolette tradizionali. Quest'estate viaggerò tantissimo ed è probabile che mi troviate a un certo punto sul canale in un luogo arcano con un modulo escattivo a lanciare Pokémon a Iosa per cercare di catturare Gesù Cristo. Ci avrò talmente tanti aromi attorno che vi sembrerò un Roselia. Che battuta di merda. Ma non è questo genere di contenuti che mi premeva fare su Pokémon GO, no signore. Il progetto che ho per questo gioco è ben più grande. Quello che mi piacerebbe fare su Pokémon GO è organizzare dei raduni con i fan, prevalentemente a Milano essendo la mia città natale, nei quali si possa interagire tramite Pokémon GO con gli scambi, con le lotte nei raid, con l'invio di pacchi, insomma con tutto ciò che il gameplay di Pokémon GO ha da offrire. Quello che vorrei ottenere con Pokémon GO è quello di creare dell'interazione reale e non solo virtuale con i miei fan al di fuori delle semplici occasioni come le fiere. Non è però solo l'interazione con il fan nella vita reale che mi interessa, ma è anche l'interazione dei fan con altri fan all'interno della vita reale. Sarebbe magnifico per me che la mia famebase iniziasse a conoscersi meglio oltre che a conoscere meglio me. E penso che Pokémon GO potrebbe essere veramente un legame che può far scaturire un progetto davvero ambizioso. Chiaramente l'intento del video è quello di riprendere tutto in stile vlog e di caricarlo poi come una sorta di via di mezzo tra un vlog e un gameplay di Pokémon GO in modo tale da coniugare le due cose. Per me sarebbe davvero fantastico vedere la mia famebase riunita, conoscersi, fare amicizie e creare dei nuovi gruppi di amicizie che nascono da YouTube. Credo molto nelle amicizie a distanza e nelle relazioni a distanza e per me sarebbe davvero una vittoria vedervi interagire insieme dopo esservi conosciuti, fra tante virgolette, sul web. Sono conscio che questo è un progetto ambizioso e sono altresì conscio che non sono sicuro di farlo partire al più presto. È proprio per questo motivo però che vi invito a seguirmi su Instagram perché se ci saranno degli aggiornamenti sono quasi sicuro che ve li manderò solo lì perché altrimenti mandarli su YouTube sarebbe un problema e intaserebbe davvero troppo il mio canale. Quindi davvero ragazzi seguitemi su Instagram perché è il modo più semplice per ricevere informazioni. Qualora non possiate farvi Instagram c'è comunque Telegram tramite il quale potete contattarmi, vi inserirò all'interno di un gruppo e poi da quel gruppo anche lì fornirò le informazioni qualora questo progetto dovesse partire. Per ora non vi faccio sapere dove potrete trovarmi perché il progetto come vedete è molto astratto ed è una cosa prettamente nella mia testa ma qualora avessi informazioni più specifiche vi farò sapere tempestivamente sui social. Per finire vi invito a fare due cose prevalentemente, a rispondere al sondaggio per farmi sapere se l'idea vi piace, se partecipereste a questi raduni e se non l'avete ancora fatto a inviarmi l'amicizia su Pokémon GO tramite il codice amico che vi lascio qua sotto nella descrizione così per una buona volta ve la leggete. Ah e ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato 3000 pacchi regalo, scusate se non li apro ma c'è un limite e io non lo sapevo sta cosa, l'apertura dei pacchi e penso di averne una cinquantina sul telefono e scusate anche se non ve li rinvio ma non ho 50 pacchi da rinviare a tutti quindi chiedo venia. Ed ora concludo questo video con un paio di news piccanti riguardo al futuro del canale, di nuovo. Questa volta ragazzi però sono news molto positive perché giusto nella giornata di ieri che per voi sarà più o meno due settimane fa probabilmente ho comprato il nuovo portatile che mi permetterà di portare contenuti con molta più qualità ma non è questa la notizia più importante perché c'è la concreta possibilità che io dopo tre anni di bestemmie cambi finalmente connessioni e passi alla fibra. Questo vuol dire tantissime cose ragazzi, vuol dire live, vuol dire video caricati più in fretta, vuol dire io che non bestemmio, è tutto bellissimo. Ma freniamo un attimo gli entusiasmi perché non ho ancora la connessione, non vorrei mai dire gatto quando non ce l'ho nel sacco. Trappattoni unico maestro di vita. Questi due fattori ci portano alla terza news che sarà la proda breve sul canale di contenuti belli potenti, belli piccanti e belli freschi finalmente dopo tanto tempo. Bene io vi ringrazio per la visione di questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che l'idea vi sia piaciuta, spero che abbiate bestemmiato poco per il mio gameplay di Pokemon Go, so che non so tirare Pokeball però avete visto un sacco di evoluzioni quindi lol che cosa bella. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace se è così, vi invito anche a scrivere nei commenti magari qualche idea per video su Pokemon Go originali, se ne avete sicuramente apprezzerò. Vi ho già detto di passare sui social alcuni di Sorvolo, mi raccomando premete la campanella e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.